Pensavo mi portassi a vedere Charlie Chaplin Esatto Ma non è un cinematografo? No, non è un cinematografo E allora come farò a vedere Chaplin? Lo vedrai, lo vedrai e lo sentirai come ti ho promesso Eccolo là, lui è Chaplin Ma dai, è davvero lui? Insomma, è proprio lui in persona? Sì, è venuto in Inghilterra per promuovere il suo film Come caspita fai a conoscere Charlie? Non lo conosco, però conosco il suo gorilla, Wack MacDonald L'uomo a sinistra Facevo la libratore a Birmingham quando lui andò a Los Angeles Vedi, anche Wack a sangue e zingaro nelle vene, come Chaplin Ma attenta, è un segreto Chaplin è nato a Blackpatch, un campo zingari a Birmingham Ecco perché ha dato il lavoro a Wack anche se era un fuggiasco Grazie Grazie Tutti abbiamo i nostri piccoli segreti Andiamo, te lo presento Ciao Wack, signor Shelby Chaplin, vi presento Grace È un onore, signor Chaplin Amore mio Signor Campbell Avete detto di conoscere l'indirizzo di mia sorella a Primrose Hill Quindi avrete qualcuno che sorveglia la casa Per vedere chi entra e chi esce Stasera i vostri uomini mi vedranno tornare in quella casa con una donna meravigliosa Rimarrà qualche ora fino a poco prima di mezzanotte Naturalmente terrò le tende chiuse Avete capito chi è, vero? Siete un bugiardo? Dormite bene, signor Campbell Siete un bugiardo